Nel recitare la preghiera alla Madonna del Divino Amore ci siete stati dentro tutti e ciascuno secondo le necessità che magari volta per volta sono venuto a conoscenza, ma ora veramente tutto questo parte dal profondo del cuore. E allora se mi permettete diciamo ancora insieme la preghiera più bella che possiamo esprimere e le parole più belle che possiamo rivolgere alla mamma che sempre è qualcosa di meraviglioso e dolcissimo nella nostra vita. Allora diciamo Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del coseno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della morte. Grazie a tutti. 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 Bye bye. Bye bye. Grazie a tutti. 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 Ecco il momento di metterci davanti alla Madonna qui in questo luogo benedetto da lei e presente in mezzo a noi come tanti papri ci hanno già assicurato ma in modo particolare San Giovanni Paolo II che più volte è venuto qui in questo santuario. Ora dobbiamo anche affidargli le opere della parrocchia, siamo qui nel suo luogo originario. La parrocchia La parrocchia La parrocchia La parrocchia La parrocchia La parrocchia La parrocchia